buongiorno a tutti e bentrovati amici trader e mi presento sono alessandro attens trader analista dei mercati indipendente dal 2015 mi occupo di trend ormai da qualche anno sono molto interessato a quello che anche è la formazione e qui vogliamo essere qui per fare un breve ma importante corso di uso della mt4 perché questo corso perché la mt4 è sicuramente una delle piattaforme più utilizzate nel mondo del trading online abbiamo deciso di fare questo corso d'uso della mt4 perché perché la meta 3 del 4 come dicevamo prima è sicuramente attualmente la piattaforma più utilizzata nel trading online e quindi insomma è bene conoscere perfettamente gli strumenti che utilizziamo prima di andare sul mercato e dove andremo ad investire sicuramente i nostri soldi quindi è bene conoscere perfettamente un pochettino lo strumento lo strumento che andiamo a utilizzare a chi ha rivolto questo corso questo corso è fondamentalmente è rivolto a a tutti fondamentalmente a tutti sicuramente è più interessante sarà magari più interessante per coloro che si stanno approcciando al mondo del trading online e che si trovano magari ad aprire per la prima volta questo software e magari al primo impatto non può essere un impatto così friendly così amichevole diciamo così io mi ricordo che personalmente quando aprì la prima volta la piattaforma mt4 l'ho richiusa dopo 30 secondi perché è complicato non era tanto complicato magari alcuni concetti del trading ma mi sembrava molto complicato e l'utilizzo a primo impatto di questa piattaforma andremo ad imparare che effettivamente è semplicemente uno strumento un software e quindi come tutti gli strumenti come tutti i software necessitano dell'opportuna conoscenza allora avremo una prima lezione che quella che stiamo facendo in questo momento che è l'introduzione alla piattaforma e che cos'è la meta del quattro e perché usarla poi andremo proprio già su una parte molto pratica perché andremo a vedere il download e l'installazione dove prende il software perché magari qualcuno non sa neanche ancora dove prendere il software e poi andremo guida passo passo all'installazione su pc quindi andremo effettivamente a partendo dall'eseguibile dal punto ex quattro che sapete insomma è un software andremo a vedere dove si prende come installarlo e come fare le prime impostazioni poi andremo proprio nel vivo chiaramente di quella che è la la meta del quattro e cominciamo a vedere le varie sezioni della meta del quattro la lezione tre si occuperà della vista del mercato e del navigatore come visualizzare personalizzare la lista del mercato quali sono le informazioni del navigatore e il suo utilizzo nella lezione quattro invece parleremo di terminale e grafici quindi andremo sulla spiegazione del menu del terminale e come personalizzare i grafici della meta tre del quattro mentre nella lezione cinque andremo sulle barre di prezzi strumenti di disegno come viene rappresentato il prezzo in mt quattro nello specifico linee barre candele e possibilità di disegnare sui grafici e perché fanno il nostro corso proseguirà poi con la sezione importante dopo aver fatto diciamo un aver fatto una presentazione un pochettino proprio dal punto di vista proprio delle varie componenti che ci sono all'interno della meta del quattro andremo poi a cercare di capire come fare effettivamente trading attraverso questo software della meta del quattro e andremo a cominciare a cominciare a parlare di trading e quali saranno gli argomenti che andremo a sviluppare selezione dell'asset sul quale operare come si fa come aprire una posizione al mercato modificare un ordine già aperto e chiude il mondo poi passeremo a una settima lezione che parla da che cosa sono degli ordini pendenti la differenza tra ordine a mercato e ordine pendenti quindi gli ordini limit e gli ordini stop che sono chiaramente delle possibilità che la meta del quattro ci offre perché sono fondamentali chiaramente poi le nostre strategie di trading che che ognuno di voi avrà ognuno di voi già ha in questo momento la lezione otto sarà parlerà di indicatori la meta del quattro è un software che già al suo interno ha una serie molto elevata molto importante e molto completa degli indicatori e degli indicatori parleremo proprio di cosa sono gli indicatori dove trovarli all'interno della meta del quattro e come inserire eventuali indicatori personalizzati la lezione numero nove invece parlerà di un altro aspetto molto molto importante che ci offre la meta del quattro che sono i cosiddetti expert advisor consiglieri esperti e quindi andremo a vedere cosa sono e dove trovarli perché già sono presenti default nella meta del quattro alcuni pot e come inserire degli expert advisor personalizzati e andremo nella decima e ultima lezione un pochettino chiamata profili cosa sono i profili creare un profilo perché vedrete poi come dicevo nella parte molto pratica che abbiamo a fare che la meta del quattro è fondamentalmente poi molto molto personalizzabile e quindi e questi profili sono un pochettino il fulcro anche di come personalizzare chiaramente questa meta del quattro